Is this something that you guys would like to do more in the future, more events, and then you come back to Toronto? Can I answer in Italian? Ah sì, noi giriamo, abbiamo girato il mondo, siamo stati in Asia, siamo stati soprattutto in Europa, abbiamo fatto amichevoli con le legend di Real Madrid, di Newcastle, in Inghilterra, in Iran, quindi è una cosa che è partita qualche anno fa e sta avendo sempre più successo, quindi uniamo naturalmente la raccolta di fondi per Fondazione Milan e la possibilità magari di andare a giocare in tanti paesi dove non siamo mai stati. La domanda era se abbiamo in programma di andare in altri posti, di tornare a Toronto, ho detto che siamo stati in tanti posti nel mondo. Cosa? No, non c'è la tua situazione? Cosa? Cosa? Ci sono indi in dove, quindi in sono stati in prima Tanto in inglese? Cosa? 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 the show was also great so we're going to try to do a good show because people are always excited to see the old Milan maybe this is not the right you know place to talk about the World Cup Italy always battle for the final so this year is not going to be very easy because quality is not so good but we can we will have the chance to reach the semi-final